Bene, allora siamo all'ultimo blocco di talk dell'ESC 2023, ormai siamo sabato sera che ora sono solo le 19 e siamo qui con i ragazzi del Meat Lab, in particolare con Pietro e Alias che avete già visto oggi però è qui in altra salsa e altro progetto e quindi in realtà poi loro si reintrodurranno sia come singole persone partecipanti al Meat Lab che come Meat Lab e ci parleranno di un progetto che è in fase di sviluppo anche abbastanza pesante perché ha avuto un'accelerata di recente ed è il Keycard Access, cioè il controllo degli accessi che nasce come il controllo degli accessi del laboratorio ma che in realtà potrebbe avere degli sviluppi anche inaspettati e anche con del potenziale molto diverso comunque lascio a loro la parola, un grande applauso per Pietro e Alias Ciao a tutti, ripresento brevemente il Meat Lab per chi non ha sentito la prima versione stamattina alle 11 il Meat Lab è l'Akerspace di Trieste, cioè un posto fisico dove appassionati di elettronica, informatica, robotica, tecnologia in generale si incontrano per costruire cose, lavorare sui propri progetti, condividere attrezzature e anche condividere idee oggi siamo qui a presentarvi questo progetto Keycard Access che è un progetto storico diciamo iniziato ben sei anni fa come idea ed è rimasto in pausa per tutti gli anni finché il qui presente Pietro non si è preso l'onere di effettivamente trasformare le mie vaghe idee in effettiva realtà niente, io sono quello che lancia il sasso e nasconde la mano e lui è quello che scrive il codice a te la parola Svac o che prendo il sasso, per come si suol dire questo progetto è anche, c'è stato parecchio input anche da parte di Vifasoi, Luca Cristaldi che non è qui con noi che ha setupato tutta quanto la nostra infrastruttura di CI e CD ma che cos'è Keycard Access? allora per farvi capire che cos'è e vedere se vi può interessare abbiamo fatto un sistema di autenticazione dei nostri soci utilizzando delle tessere Mifare che sono tessere NFC che non costano particolarmente e sono comunissime ne avete sicuramente diverse nel portafoglio sono utilizzate per qualsiasi forma di trasporto pubblico e per il credito per esempio delle macchinette insomma sì, per comprare articoli e anche le carte di credito in alcuni casi hanno delle funzionalità simili e utilizzare queste carte non è stata una cosa semplice abbiamo dovuto costruire la nostra libreria per SP32 in particolare e secondo noi è un progetto molto complesso, molto bello con tanto potenziale anche di arricchire la community open source di librerie che altrimenti vengono a mancare e vogliamo presentarvelo insomma e date un'occhiata abbiamo anche una live demo per la fine insomma cosa sono queste tessere Desfire? dentro queste tessere, di cui ripeto ne avete diverse all'interno del portafoglio in realtà c'è sostanzialmente una struttura tipo un file system le tessere possono archiviare dei file e questi file sono organizzati all'interno di alcune app alla root abbiamo la root app che sostanzialmente è la carta per cui è sostanzialmente un file system ad un unico livello dov'è la particolarità? ogni livello di storage della carta può essere protetto con una master key nel caso della carta con una master key nel caso di una cartella ovvero sia di un'applicazione e un certo numero di altre chiavi che non sono master key e a livello di file abbiamo diverse impostazioni di sicurezza possiamo crittare il file autenticare il file oppure semplicemente trasmetterlo in plain text ovviamente ad ogni livello abbiamo le impostazioni della carta che vedremo più avanti quindi questa è una presentazione molto semplice molto scarna di quello che la tessera può fare quello che fa all'interno del cip nfc è crittare per noi dei file e trasmettere questi dati in maniera presumibilmente sicura cosa vuol dire sicura? la carta supporta soltanto crittografia simmetrica per cui la chiave chi scrive e chi legge deve conoscere la stessa chiave i cifrari che supporta ce ne sono diversi di troppo vecchi per essere attuali al giorno d'oggi ma quello che ci interessa a noi è AS128 in più c'è un protocollo di scambio chiave così che quando io prendo la carta e la metto sul lettore riesco ad ottenere una sessione sicura protetta da una chiave che protegge da un attaccante che legga insomma il flusso dei dati oltretutto ci sono una serie di permessi a livello di file e a livello di applicazione che non andremo in dettaglio su questi permessi ma se volete dopo possiamo parlarne più approfonditamente la cosa importante è di crittare il file perché se non crittate il file ovviamente viene trasmesso in chiaro e bisogna anche stare attenti perché nell'implementazione che non è disponibile online la documentazione è soltanto con non disclosure agreement il protocollo in realtà è parecchio complesso e per trovare dettagli del protocollo abbiamo dovuto studiare tutta una serie di progetti open source che già ne implementavano una parte come usiamo queste tessere? allora il nostro sistema è composto di tre elementi la carta un gate che è sostanzialmente la porta e un key maker che è una periferica che programma le carte il gate e il key maker sono come ogni sistema di sicurezza che si rispetti dotati di una coppia chiave privata chiave pubblica che si devono scambiare in più quello che noi vogliamo è salvare nella tessera l'identità del portatore così che quando io passo la tessera sul lettore riesco a sapere di chi è per farlo la vogliamo proteggere con una password che è simbolicamente rappresentata da questa chiave ovviamente io devo poter scrivere questa identità con il key maker e leggerla dal gate questo richiede che sia il gate che il key maker siano d'accordo su un determinato segreto che viene utilizzato per determinare la password di questo file oltretutto abbiamo la chiave la master key della carta che anche quella dobbiamo impostare per non lasciare il sistema nello stato in cui la maggior parte dei sistemi di identificazione su this fire sono oggi ovvero sia niente di tutto ciò usiamo solo l'uid di cui parleremo dopo allora la prima cosa che facciamo è derivare la chiave la root key della nostra carta lo facciamo utilizzando una kdf una key derivation function chi di voi non sa cos'è una key derivation function una key derivation function è una maniera di trasformare una chiave di input per esempio la chiave segreta del key maker in un'altra password in base a un parametro quindi differenzia la password in questo caso sulla base dell'uid in maniera tale che se io ti do la password finale non è possibile o perlomeno è estremamente difficile ritornare alla password originale come dire da un unico elemento di partenza posso ottenere tanti elementi di arrivo e non posso tornare indietro è computazionalmente difficile magari avete sentito parlare di bcrypt script queste sono key derivation function sostanzialmente per cui partiamo da una chiave unica che è la secret key del key maker e deriviamo la chiave di root della carta di conseguenza il key maker e chiunque conosca questa password può utilizzare la carta e modificarne le impostazioni per quanto riguarda invece l'identità dobbiamo stare più attenti perché deve essere letta dal gate per cui utilizziamo la gate base key che è stata concordata tra il gate e il key maker per derivare la password del file che contiene l'identità questo significa che sia il key maker che il gate possono aprire il file di identità quindi questo è il nostro sistema un file con l'identità che può essere letto da entrambe le periferiche e una carta che può essere configurata soltanto dal key maker ci sono dei dettagli in più come forma di protezione ulteriore criptiamo il contenuto dell'identità utilizzando criptografia asimmetrica quindi utilizzando la chiave segreta del key maker per autenticare il contenuto e la chiave pubblica del gate per criptare il contenuto il risultato è authenticated encryption il che vuol dire che non si può modificare il contenuto non si può leggere se non è il destinatario che uno intende e così via in sostanza il contenuto dell'identità può essere solo letto dal gate solo ed esclusivamente dal gate nessuno può mettere mano nel contenuto neppure se conosce questa password che nota il gate al key maker quindi questo è grosso modo il sistema in più c'è un altro dettaglio ovvero sia il fatto che c'è anche un'applicazione di cui dobbiamo tener conto per cui sono in realtà tre le chiavi che dobbiamo calcolare quella della carta quella dell'applicazione e quella dell'identità per l'applicazione facciamo la stessa cosa che facciamo con la carta e la deriviamo dalla chiave segreta del key maker un dettaglio per chi di voi si intende di criptografia in realtà non dobbiamo non c'è bisogno di condividere questa gate base key tra il gate e il key maker qualcuno di voi vuole testare i suoi skill a rispondere a questa domanda sulle mani nessuna mano qualcuno di voi assolutamente non vuole tentare di rispondere a questa domanda la membership del mittelab la offro io e vi lascio solo con il problema da pensare dopo se vi intendete di criptografia abbiamo già scambiato la chiave pubblica del gate e la chiave pubblica del del key maker che sono chiavi ed25519 chiavi criptografia curva ellittica e un key pair cioè una copia chiave pubblica e chiave privata la chiave privata è un numero sostanzialmente un intero e la chiave pubblica è un punto sulla curva ellittica su un campo finito che viene espresso come il prodotto di n volte in cui n è la chiave privata ed è un punto base che è noto e se avete fatto un po' di matematica un po' di informatica teorica dovreste riuscire a determinare un segreto comune tra il gate e il key maker senza aver bisogno di scambiarlo prima e in caso ne possiamo parlare dopo parliamo di cose più interessanti se siete ancora con me parliamo di come lo rompo perché presentare un sistema di sicurezza di fronte agli hacker è ovviamente un invito così come lo è metterlo su al meetlab allora al di là qua ho elencato una serie di scenari di chi può fare cosa per esempio leggere il file leggere il testo criptato ma forse quello che è più importante è questi qua in azzurrino che sono potenziali scenari di attacco in realtà queste cose sarebbero da formalizzare sostanzialmente noi ci chiediamo data una certa capacità che ha l'attaccante ad esempio alla carta al gate al key maker cosa può fare ovviamente lo scopo principale è ottenere l'accesso dell'hackerspace ma ci sono anche obiettivi secondari come per esempio leggere l'identità degli altri clonare una carta o disabilitarla allora idealmente soltanto il gate può leggere l'identità e soltanto il key maker può disabilitare e creare carte quindi potete scegliere una di queste righe e concentrarvi su questa possiamo esplorare cosa succede in varie situazioni la situazione numero uno è prendere un flipper zero e emulare l'uid della carta che è l'attacco numero zero funziona nel 99% dei casi sì funziona nel 99% dei casi perché abbiamo testato tutte le carte su cui siamo riusciti a mettere le mani e sostanzialmente sono vuote vuote significa che chi utilizza quella carta per entrare nel proprio laboratorio a casa propria sta usando l'uid che di cui ovviamente si può emulare molto facilmente con un flipper zero nel nostro sistema è senza l'identity file anche se è l'uid non fai nulla quindi questa è la prima feature di sicurezza che abbiamo ma possiamo andare anche oltre perché la carta offre una sessione autenticata in cui c'è uno scambio chiave e protegge i dati che vengono trasmessi il che significa che chiunque tenti di ascoltare la trasmissione e farne il replay sostanzialmente non ha niente in mano perché la chiave di sessione è diversa e se anche non dovesse esserlo comunque le chiavi segrete sono in ogni caso nei rispettivi dispositivi e protette dalla key derivation function e dalla encrypted authentication andiamo più nello scenario ideale diciamo che qualcuno in futuro trova un attacco sulle desfire EV2 o EV1 no EV2 che abbiamo e quindi riesce a ottenere le chiavi che ci sono sulla carta la particolarità di questo sistema con questa combinazione è che l'unica cosa che ha in mano un attaccante sono i dati della stessa carta ogni breach che riesce a fare nel nostro sistema è limitata alla carta che ha in mano non riesce ad accedere ad altre carte non riesce a clonare altre carte non riesce a forgiare nuove identità perché sono protette da che cosa? dalla chiave segreta che è solo nota al keymaker da che cosa sono protette? dalla key derivation function che protegge il nostro segreto alle spalle diventiamo ancora più diciamo estremi supponiamo che qualcuno arriva vi sfonda la porta e vi ruba l'SP32 ti ha già sfondato la porta per cui è già riuscito ad entrare che cosa può fare con questo'SP32? con questo gate sostanzialmente? beh può leggere l'identità degli altri ovviamente perché questo è quello che il gate fa ma attenzione non riesce ad espandersi oltre al dominio di questo gate non riesce a leggere l'identità di altri gate non riesce a derivare la chiave segreta del keymaker per cui ancora una volta abbiamo limitato il danno soltanto al danno che è già stato fatto e non riusciamo ad andare oltre poi ovviamente si può andare si può anche andare avanti e supporre combinazioni di queste ma questo sostanzialmente è per darvi un'idea di come è stato pensato e perché ha questo livello di complessità adesso per la parte implementativa passo la parola dagli Ash grazie grazie Spag per quanto riguarda l'hardware come aveva già anticipato Pietro è basato su un SP32 e sul PN532 come hardware anche se il PN532 alla fine adesso è not recommended for new designs però è super super comune super clonato e si trova veramente a un prezzo iper iper accessibile quindi il prezzo totale diciamo contando anche un paio di carte sono sotto i 30 euro insomma la carta la carta che abbiamo noi che è questa qui e ve la faccio vedere viene circa 2 euro e 50 stampata con una mock di 100 quindi 2,50 alla scheda già stampata sì quelle vergini ti costano forse una cinquantina di centesimi più o meno quindi nella parte di hardware in sostanza l'SP32 che funziona come gate può avere programmato un GPIO che lui alza o abbassa quando la tessera è valida l'altra cosa bella è che volendo il gate si potrebbe riconfigurare anche via NFC stesso stiamo un po' dibattendo su questa feature perché ovviamente espande leggermente l'attack surface però è una cosa che non è non è obbligatoria da utilizzare ecco si può fare attraverso altri canali esatto quindi nel nostro deployment che non è ancora definitivo abbiamo solo fatto un paio di deployment di prova abbiamo l'ulteriore ostacolo di circa un 5 6 metri di cavo tra la porta e lì dove vogliamo mettere l'SP32 quindi abbiamo preso un convertitore da RS232 a UART quindi andiamo con la seriale 5 metri di seriale e la limitazione abbiamo scelto di usarla a 5 volt per un po' di constraint fisici proprio lì dentro però il PN532 lavora 3 volte 3 quindi anche se cade un po' di tensione non c'è un grosso problema parlando di questo ovviamente bisogna proteggere il gate nel senso che l'SP32 non deve essere accessibile dall'esterno perché se no uno veramente te lo ruba e basta non fai niente anzi oltre a questo l'SP32 è il punto dove tu comandi diciamo la serratura quindi se la esponi all'esterno uno fa il ponticello e si apre la porta quindi l'SP32 deve stare diciamo idealmente in un posto inaccessibile all'esterno anzi sicuramente in un posto inaccessibile all'esterno idealmente anche abbastanza lontano mentre tutto il resto può essere anche esposto all'esterno quindi diciamo anche se qualcuno espone il PN532 all'esterno il nostro threat model lo prevede tra un po' di virgolette ecco quello che abbiamo fatto non so se vuoi dirlo tu questo SPAC quello che abbiamo fatto finora mi sento un po' quello che lui ha fatto finora è stato scrivere due librerie Lib Spooky Action che è un driver completo per PN532 quindi implementa tutte le api che il PN532 offre quindi compreso controllo GPIO e quant'altro e anche la comunicazione con Mifer Desfire quindi implementando tutte le api e tutte le possibili configurazioni dei file della Desfire sopra questa libreria ci sta Keycard Access che è l'implementazione del sistema di accessi quindi tutta la parte di cifratura asimmetrica che sta sopra la parte di Desfire abbiamo più di 90% di test coverage che sono automatici facciamo girare su ogni commit facciamo girare Clank Tidy abbiamo un dedicated test in hardware che è questo si chiama il Testinator che gira a casa di Wifasoi quindi per ogni commit viene lanciato sulla sua Raspberry Pi e poi caricato e testato con la tessera quella tessera lì ha fatto direi almeno un migliaio di cicli di lettura scrittura prima o poi muore non solo la nostra CI CD per adesso finisce diciamo come l'ultimo step di release anche il pacchetto di aggiornamento firmware over the air che stiamo con il quale stiamo iniziando a giocare la cosa la cosa che invece sarà ancora da fare prima di metterlo in deployment diciamo finale sarà il back end quindi la parte di log perché ovviamente un sistema di accessi come come dia comanda deve deve capire chi è entrato e quando è entrato quindi per questo ci serve comunque un posto che dove salvare questi dati ci serve un modo per esporre le regole cioè dovremmo uno gestire la blacklist delle tessere se qualcuno perde la tessera dobbiamo avere la possibilità di dire questa tessera qua revocala la prossima volta che la vedi formattala o cose del genere l'altra cosa che ci manca ancora è il secure boot perché non tanto per proteggere i segreti sulla flash quanto proprio per impedire che magari qualcuno ci carichi su un firmware a caso che apre a tutti l'altra parte che vogliamo migliorare un po' dell'hardware proprio legata al nostro deployment nel nostro hackerspace è metterci un neopixel per gestire l'interfaccia utente in modo da invitarlo ad appoggiare la tessera e fare un po' di animazioni carine e un pulsante per suonare adesso abbiamo tipo un fungo di emergenza la cosa è nascosta dietro che non invita diciamo proprio le persone a premerlo e ovviamente poi fatto questo fare il deployment finale qui abbiamo lasciato anche un po' di progetti che abbiamo scoperto o diciamo al quale ci siamo ispirati durante lo sviluppo il più interessante tra questi è Fab Access loro sono un gruppo che hanno presentato anche al FOSDEM di quest'anno dell'anno scorso quest'anno mi pare dell'Università Tecnica di Berlino e loro usano questo per non tanto per controllare gli accessi bensì per gestire tipo le laser le laser cutter e tutte queste cose qua fanno anche billing mi pare no cioè fanno anche gestiscono i costi che è una cosa che è una cosa che si può fare nel senso che le Mifair supportano dei file particolari che sono incremento decremento tipo quelle per le macchinette diciamo per capirci Lib Logical Access è una delle librerie che è stata quella che forse era la più papabile prima di decidere di scriverne una nostra tuttora è abbastanza mantenuta mi pare l'ultimo commit è stato sei mesi fa mentre LibNFC Lib Free Fair sono storiche tra virgolette Lib Free Fair non ha proprio implementato tutto LibNFC invece fa solo la parte di comunicazione con PN532 lascio te le conclusioni dai sì dunque questo in realtà è stato un progetto parecchio complesso anche per la parte di dover indovinare come comunicare con la carta crittografando il contenuto senza la documentazione per cui in realtà è stato cominciato nel 2019 e c'è stato un po' di interruzioni perché nel frattempo ho scritto la mia tesi dottorato quindi sì in realtà è lungo come progetto e qui ci sono riferimenti se volete guardare il codice sorgente vi invito a farlo Keycard Access Lib Spooky Action e se in caso volete saperne di più potete collegarvi con noi presso il canale Telegram del MeetTelab per esempio e un unico monito prima di concludere cioè rendiamoci conto che in tutto questo l'unica cosa che dobbiamo fare quando installiamo questo sistema figo di aprire con le carte è non peggiorare le situazioni al punto tale che le persone siano invogliate ad entrare più di non di sfondarti la porta per cui qui il five dollar wrench method di XKCD come sistema di hacking è necessario insomma come warning e con questo concludiamo e prima delle domande aspetta prima delle domande mi sono dimenticato effetto demo it works ecco allora qualcuno ha delle domande su questo progetto allora non vedo domande però ne vedo una in realtà che è arrivata in estremis grazie domanda molto rapida e che si collega molto con l'ultima vignettina quali sono i piani per renderlo a prova di wrench quindi hammer qualcuno che arrivi dice va bene non so hackerare però un martello e quindi hackero lo stesso questo risponde agli altri è bellissimo perché diciamo ci siamo un po' preparati a questa domanda e la risposta è la nostra sede è in una sede di ex banca quindi abbiamo tutti i veteranz di sfondamento come se non te lo avesse offerta in un vassoio d'argento ecco allora ringraziamo con un grande applauso Pietro Alias del MeetLab grazie a tutti